Con un largo giro sul Golfo Partenopeo ci permette di ammirare a volo d'uccello l'isola di Nisida, un tempo nonostante le sue bellezze naturali, luogo di pena per i carcerati. E un'altra gemma del Golfo, l'isola d'Istia. Ed eccoci ora sul più pittoresco e ormai bonario vulcano del mondo, il Vesuvio, sorvolando a bassissima quota per occupirvene queste sensazionali visioni. Il Vesuvio